Il nostro paese è arrivato tardi nella generazione di competenze STEM, cioè quelle tecnico-scientifiche, ingegneristiche, matematiche e oggi abbiamo però un'occasione sempre più importante inserire insieme a Canto, in parallelo alle competenze tecnico-scientifiche, delle formazioni che riguardi la disciplina umanistica, l'arte, la letteratura, è sempre più importante rifornire, coltivare entrambi i due lati della nostra mente anche perché la capacità di pensiero critico, il saper lavorare insieme agli altri è molto più forte se appunto abbiamo approfondito un'arte, abbiamo una passione dal punto di vista della letteratura, del pensiero filosofico per questo accanto allo STEM bisogna aggiungere la lettera A, molti paesi stanno già lavorando sullo STEAM che credo sia il percorso più forte da costruire per il futuro.